Ancora in coppia Giancarlo Orru e Andrea Vecchiarelli ripropongono il loro secondo progetto di arte come cura con la mostra Paziente per caso 2. Questa volta i lavori dei due artisti sono esposti a Montefiore del Laso e vi resteranno fino al 4 maggio. Nella sala Partino i paesaggi visionari di Orru si contrappongono alle pagine del libro di Vecchiarelli, libro scritto e mai stampato ed è per questo forse che sono appesi ai vetri delle finestre lasciando trasparire il cielo. A quelle pagine si sono ispirati gli studenti delle primarie di Montefiore che hanno realizzato disegni con un solo filo conduttore, i suoni negli ospedali. Ecco allora simboleggiati i vari ciboli di carrelli, i picchettini delle macchine, i sospiri delle persone. Partendo da esperienze vissute con questa mostra i due artisti cercano di analizzare una condizione particolare, quella appunto di paziente. Nasce così una rilettura a quattro mani di due situazioni complementari, paziente in un letto d'ospedale e paziente verso la vita.